Weyla, benvenuti, benvenuti, wow, 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 che onore, che onore essere qui, mamma mia, oggi abbiamo un ospite grandissimo, abbiamo iniziato col botto la scorsa volta con gli amici toscani, abbiamo avuto la scorsa volta Giacomo Cariulo e Enrico Battocchi, quindi, se non avete visto la scorsa puntata, andatela a guardare perché è veramente interessante e per ovviamente questa settimana qua, o comunque questa volta qua, questo episodio, non so se sarà settimanalmente, però questa volta invece avremo un ospite altrettanto interessante, oggi con noi parleremo un po' del genere, parleremo anche un po' di assistenze, parleremo di ideologie di assistenze, ma non voglio parlare troppo, Poi, come sapete, questo faccio solo una breve spiegazione del format, questo è un format interessante perché è nato da, appunto, l'idea della community proprio di WordPress, perché quando una persona, no, si è in community, spesso nei WordCamp, magari c'è un momento in cui, no, ti stai magari aspettando la pizza con i tuoi vicini, con i tuoi amici, allora inizierà a chiacchierare, ecco, l'esperienza che vorrà fare adesso con il nostro ospite di oggi e con tutti gli altri ospiti che intervisteremo nel caso, sarà proprio questa, cioè chiacchierata, molto semplicemente, di qualsiasi cosa, in realtà, non solo riguardanti, come in questo caso, SiteGround, già ho spoilerato, ma c'è anche nel titolo, ma anche in realtà in generale, quindi l'obiettivo è proprio questo, cioè cerchiamo di creare qualcosa di informale, infatti io ho preso la mia bella solita borraccia con il bel loghetto di WordPress, ma ora do il benvenuto al nostro caro ospite che è Luca Rodino, responsabile del mercato italiano di SiteGround, qui con noi, ciao Luca! Ciao Matteo, ciao a tutti! Che hai ti sei portato da bere? Ah, io, ecco, no, non mi sono portato da bere, volevo portare la tazzona di caffè americano e poi in realtà me la sono lasciata indietro, me la sono persa, va bene così, va bene così, non ti preoccupare. No problem, no problem. Allora, com'è andato per te il lockdown? Ho visto che hai fatto, cos'è, tipo un sacco di interviste, no, sì, di… Sì, abbiamo, ci siamo mostri in diversi ambiti in realtà come SiteGround, beh, allora, personalmente posso dire che è stata un po' dura psicologicamente e fisicamente, ma più che altro perché io sono una persona molto abituata ad andare in giro, a muovermi, a fare sport e l'ho vissuta un po' così, però adesso me la sto già dimenticando, siamo molto più liberi, siamo molto più aperti, ci stiamo muovendo molto di più, quindi diciamo che acqua passata e speriamo che rimanga acqua passata e non ritorni qualcosa di simile in futuro. Da un punto di vista lavorativo, per SiteGround… Scusami, dimmi. SiteGround, ne parliamo per un secondo, no, perché ti volevo chiedere una roba, io non so se ricordo bene, però tu lavoravi, mi ricordo, ti l'ho visto qualche volta in qualche webinar, a Talent Garden di Merano, possibile? Sì, 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 perché non è lontano da dove abito io. Eh, infatti, lo so, e ci stai andando ancora? Come stanno andando le cose? No, allora, ho dovuto ovviamente interrompere, soprattutto durante i webinar, per la questione del lockdown, io andavo lì perché sono molto carini, ci sono stato in diverse occasioni, tu lo sai, anche per i meetup che vengono fatti, i meetup WordPress a Milano, quindi conosco il posto, conosco le persone, sono molto gentili, hanno un sacco di aree dove poter fare colloqui, interviste e webinar che tengo, quindi adesso è qualche mese che non ci vado, proprio perché non c'era la possibilità. Non mi sono più informato adesso nell'ultimo mese, sempre per la questione Covid, perché mi sono organizzato, diciamo, come vedi, a casa, come hanno fatto un po' tutti in questo periodo, in modo da avere una postazione di gestione delle interviste. Che poi lo storierei il fatto che, io che sto intervistando, tra le guardate te, perché comunque in realtà è una chiacchierata informale, ho una webcam Logitech attaccata lì, tu invece hai un microfonone gigantesco, tipo... Ho una webcam Logitech anch'io, guarda, ti do anche il modello, no, non riesco a leggere da qua, però ho una webcam Logitech anch'io e ho un Yeti microphone. E là, e là, e là. Già che, già che li uso spesso, almeno li ho presi. E hai il team lì che ti prepara tutto, no, buongiorno, cosa? Ma guarda, non credere, nel senso, è anche molto fai da te, nel senso che quando, soprattutto, le cose si organizzano a casa, dal fatto di avere un background un attimo carino, dalla pianta, ai servizi che funzionano, ai sistemi che funzionano, in realtà ti devi anche un po' arrangiare. E' un po' quello che abbiamo fatto tutti quanti durante questo periodo di home working. Ma sbaglio o dietro di te c'è una televisione? O mi sto sbagliando? No, no, qua dietro c'è uno schermo, sì, sì, assolutamente. Per quello è raffazzonato il background. Ho cercato di metterlo il meglio possibile, però è quello che si vuole fare. Non è tipo uno studio, cioè sei proprio in soggiorno. Esatto, 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 perché lo studio è molto triste. Lo studio è molto a parete bianca, quindi non mi piaceva. Ho cercato di usare l'angolo colorato. Va bene per fare le chiamate Zoom con lo sfondo personalizzato. Sì, 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 ma preferisco una cosa molto più sobria in questo modo. Per lo stand lì del web marketing festival, perché penso che abbiate anche lì una stanza Zoom tipo WorldCamp Europe e tutti gli altri WorldCamp, come hai fatto? Ti sei messo là dietro con lo stand, con l'immagine o sfondo? No, 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 no. Allora, il web marketing festival era totalmente differente. Non avevamo un online o un digital boot, ma non c'era nulla di visibile, nel senso non c'era una webcam. Quindi c'era una pagina a noi dedicata con le nostre presentazioni, i nostri contenuti. C'era una chat live nella quale le persone potevano scriverci e noi rispondevamo. E all'interno della chat live c'era la possibilità di organizzare dei meeting con noi. Il meeting poi veniva fatto come volevamo noi, tramite Skype, Zoom o quello che volevamo. Così, in questo modo qua, come stiamo facendo adesso io e te. Cioè, niente di più. Bella, bella, no, immagino. No, bene, 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 bene. Cioè, devo dire la verità, una cosa molto buona, sinceramente, secondo me, perché è una roba... Ecco, io, dico la verità, non ho mai amato StreamYard, però quando devo fare queste tutte le interviste, lo uso, specialmente quando ci sono più persone, non è perché altrimenti sarebbe tipo triliardi di sistemi da utilizzare, ma anche no, grazie. Specialmente che tu immaginati, se devi fare tipo una... Ecco, per esempio, già Zoom è meglio, ma per esempio, se tu devi fare una telefonata Skype, ok, devi avere due flussi differenti e poi devi trovare un modo per collegarli, e tu ti fai le funzioni. È una roba che forse lo fanno solo i radio, ma è infattibile. Ah, ma StreamYard è comodissimo. Invece, permettimi solo di dire una roba, ho seguito il tuo, anzi, il tuo talk del Web Marketing Festival, molto, molto interessante. Sì. Però, adesso, non so se hai... Però, quando tu hai parlato lì delle tutte le cose che avete fatto voi di SiteGround, nell'ambito appunto dell'emergenza, sembrava tutto molto marketizzato. Quando io, sinceramente, magari è un mio sogno, magari cosa... Però, secondo me, quello che avete fatto, non l'avete fatto solo per, capito, marketing, ah, no, guadagno, ma secondo me, visto che conosco anche sia te che anche molte altre persone di SiteGround, non vi vedo gente, ah, no, guarda, le analytics, aspetta, no, ma così posso guadagnare di più. Cioè, mi sembra, mi sembra tutte persone molto di cuore, quindi, non so... Allora, assolutamente sì, hai ragione. Ci sono sempre due facce della medaglia di ogni cosa che viene fatta. Non dimentichiamoci che comunque SiteGround è un'impresa e quindi comunque l'obiettivo è quello di crescere e avere entrate. È però vero quello che dici te, nel senso... Quello che io spiegavo durante il web marketing festival, tra le varie cose, per esempio, c'era la campagna Anch'io contribuisco che avevamo creato, che è una campagna che è nata, lo spiego per chi non lo conoscesse, è una campagna che è nata per dire, facciamo una sorta di brainstorming e di sharing di quello che noi stiamo facendo per la comunità Italia e le storie più belle verranno da noi premiate con un anno di hosting gratuito. Questa cosa qua è nata, per esempio, senza, fra virgolette, fini di lucro, nel senso che era la volontà di SiteGround di cercare di coinvolgere le persone a livello sociale, mediatico, per cercare di raccontare le loro esperienze e farle incontrare. Poi è ovvio, sarebbe falso dire il contrario, che da questo noi ne ricaviamo anche qualcosa. Ne ricaviamo qualcosa non in termini monetari, ma in termini di visibilità, nel senso che l'azione di cercare di far creare un dialogo fra le persone all'interno dei social porta anche a una visibilità maggiore del brand SiteGround. Quindi c'è da una parte l'elemento, chiamalo emozionale, chiamalo di cuore, dall'altra ci deve sempre essere l'elemento comunicativo e di marketing. Le uniche attività che abbiamo fatto, che io tra l'altro non ho citato, e questo è un esempio di come siano state fatte non a livello di marketing, sono state le donazioni. Come sai, noi abbiamo la sede centrale, la nascita di SiteGround, avviene 15 anni fa a Sofia, abbiamo ancora la sede centrale a Sofia, in Bulgaria, e in Bulgaria siamo stati... SiteGround è stato tra i maggiori contributors per gli ospedali bulgari. Questa cosa qua in realtà non è stata comunicata, un po' perché magari veniva percepita in modo sbagliato, o non veniva ben percepita all'interno del mercato italiano, e quindi ho preferito non comunicarla, un po' perché sono azioni che comunque vengono fatte appunto di cuore, perché c'è una situazione difficile, soprattutto in Bulgaria, come puoi immaginare, è una situazione complessa, perché il sistema sanitario è diverso, è meno strutturato, eccetera, eccetera. E quindi... Ma qualcuno sono stati segnalati i casi di Covid-19 all'interno di SiteGround? Non che io sappia, al momento non c'è... Qualcuno ha fatto sicuramente il tampone, perché ha conosciuto qualcun altro che è... Beh, ma non ci sono stati positivi. Tieni conto che SiteGround è stata una delle prime aziende all'interno della Bulgaria e della Spagna a fare un lockdown totale, nel senso che quando in Italia sono arrivati i primi casi ancora di Codogno, e si incominciava a sentire un po' quella... a percepire quell'idea che forse ci sarebbe stata una diffusione più ampia, negli headquarter di Madrid e di Sofia abbiamo deciso, l'amministrazione ha deciso di chiudere tutto e mandare tutti a casa tramite on-working. Questo stiamo parlando di marzo, quindi stiamo parlando di una situazione in cui, per esempio in Bulgaria, quando questa è stata attuata all'inizio di marzo, probabilmente c'erano pochissimi casi, eravamo nell'ordine delle decine. Questo ha permesso ovviamente di iniziare, di preservare tutto quanto sin da subito, di essere attenti sin da subito e di non avere una diffusione, un contagio all'interno dell'azienda. L'azienda è chiusa totalmente, SiteGround è chiusa totalmente da marzo, come struttura. Ci stanno dentro solo ovviamente le persone che devono essere lì per forza. Ma le guardie, tipo c'è qualcuno, sì? Sì, 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 assolutamente. Però tutto il reparto marketing, tutto il reparto assistenza, il legal, il finance, persone che non hanno necessità di stare all'interno della struttura, stanno allì fuori. Se qualcuno ha bisogno di qualcosa all'interno dell'azienda, perché gli avvocati all'interno dell'azienda hanno bisogno di prendere dei faldoni e documenti, devono fare richiesta ufficiale, vengono accompagnati da una guardia, devono essere tutti imbardati. Cioè abbiamo attuato delle procedure che sono ad altissimo livello, anche esagerato, ma che hanno permesso ovviamente di tagliare le gambe subito alla possibile diffusione. Ma posso chiederti invece, perché tu praticamente hai sempre fatto in realtà lavoro dai moto. Perfetto, come proprio struttura del lavoro, cosa è cambiata? Solo il fatto che non vai più a Merano, ma stai direttamente a casa? Allora, dal punto di vista del lavoro in realtà mi è cambiato, perché tieni conto che io una volta ogni due settimane, in media, parliamo dal 2018-19, ti prendo come media, perché il 2020 non conta, io ogni due settimane comunque sono in viaggio. Sono in viaggio da qualche parte, che sia in Italia che sia all'estero, principalmente in Italia perché è il mercato di cui mi occupo. E a me è cambiato e mi manca un po' il modo di lavorare che avevo prima e che spero ritornerà presto, perché comunque nell'ambito del mio lavoro c'è molto contatto con le persone, contatto con le aziende, vado a redazionarmi per creare partnership, vado agli eventi, vado alle conferenze, parlo agli eventi. Ovviamente tutta questa fisicità è venuta a mancare. Io non ho la fisicità della presenza nel posto di lavoro, ma tieni conto che comunque SiteGround è un precursore non dal punto di vista del long working, ma dal punto di vista dello smart working, nel senso che noi abbiamo una totale flessibilità, anche quando siamo a Sofia o a Madrid, di gestire il lavoro un po' come vogliamo. Cioè nel senso che è ovvio che dobbiamo fare le nostre ore di lavoro canoniche, ma è anche vero che se una persona dice guardate, oggi, io lunedì, questa settimana, io lunedì e martedì lavoro da casa, non c'è assolutamente problema. Cioè quello che conta è un solo performance, non è il luogo in cui performi, capito? Poi ovviamente dipende dai ruoli, dipende da cosa devi fare, eccetera. Però siamo sempre stati avanti come smart working noi. Sì, io ho sempre, ho ultimamente provato, c'è stato un momento in cui effettivamente, sai, stando a casa è sempre stato un po' un problema. Adesso sto iniziando ad abituarmi anche io, perché effettivamente, secondo me, quello che è successo in questa emergenza è che tantissima gente ha capito che effettivamente non c'è bisogno di andare in un ufficio. Cioè, c'era una volta, all'inizio, che stavano partecipando a un meetup, dove c'era uno che aveva chiesto, tipo, ah no, ma quello che deve fare è le fatture, e che poi deve, no, stampare, inviarle. E come fa? Beh, intanto, chi deve fare le fatture, cioè chi le scrive, non è che devi stare in ufficio. Puoi fare un'attività. La stampa, sì, la fai in ufficio, però l'invio anche lì. È proprio una logica diversa d'azienda e di impostazione del lavoro. Esempio banale, se tu lavori in SiteGround e per n.mila motivi vuoi o devi lavorare da casa, SiteGround come azienda, ma come farebbero qualsiasi altra azienda che è improntata sullo smart working e sull'home working, ti dà tutti gli strumenti di cui hai bisogno. Quindi tu sei una persona che ha bisogno di stampare e scannerizzare documenti, SiteGround ti compra una stampante, uno scanner. Io devo fare i webinar a casa perché sono in home working. SiteGround mi ha preso una Blue Yeti e una Logitech. Cioè, è così che funziona. Non è perché SiteGround è magica, perché SiteGround segue quella che è la logica di lavoro. È difficile farlo da un giorno all'altro e capisco che le aziende che fino ad oggi non hanno operato in questo modo non possono farlo, non possono dire sai cosa c'è? Ho mille dipendenti, prendo mille stampanti per tutti i dipendenti. È ovvio che così non funziona. Ma quando tu imposti sin dall'inizio una logica di lavoro di questo tipo lo puoi fare dall'oggi a domani nel senso che da oggi noi cominciamo a indirizzarci su quell'orientamento di lavoro vuol dire che la prossima persona che io assumo avrà quell'orientamento quindi so che può fare smart working, on working, faccio contratti in relazione a questo, gli do dei servizi e degli strumenti che gli servono per lavorare da casa. Quindi è così che deve funzionare. Quindi nell'ottica delle fatture per esempio l'azienda in quel caso gli dovrebbe fornire gli strumenti. È ovvio che se non l'hai mai fatto diventa un problema perché tu arrivi a casa e dici cacchio ma io qua non ho più niente, non ho i raccoglitori, non ho le stampanti e come faccio? Allora capisco il dubbio che sorge ma un'azienda che lavora in modo smart da tempo non si pone questo problema perché ha già risolto a monte. capisco e ti faccio una domanda che può essere interessante voi avete fatto un'offerta veramente veramente incredibile cioè più low cost del low cost praticamente infatti quando ho detto tu pensa ho detto al mio prof di informatica no devi far passare tutti a Saigon cioè perché questo c'è nessuno in Italia che fa un paese del genere 99 centesimi per tre mesi è veramente una roba che dici ma e quindi quando l'ho visto ho detto mi sono sentito come non so se sei presente quando tu sei un neanche a passare di infatti o una passare di uomo conosci Iliad certo hai visto la loro prima offerta io ho seguito la loro offerta cioè proprio il lancio dell'ereca e quando ho visto mi è un'altra uscita la stessa cosa no la devo fare non posso non fare è troppo conveniente come faccio cioè attivo tutto quello che fa cioè capito per sfruttare allora noi l'abbiamo fatta esattamente per questo nel senso che noi lo sappiamo e abbiamo sempre avuto una logica di prezzo di un certo tipo noi costiamo più degli altri lo sappiamo la domanda in realtà che tipo la fai era io avevo capito da quello che mi raccontavi che effettivamente avete già in mente di fare qualcosa per le persone young perché c'è il problema ok c'è il buco che io ancora ad oggi non ho trovato una soluzione che te lo ricordi quando ci erano sentiti l'apre i miei compagni di classe perché come i miei compagni di classe c'è tantissima gente adesso nelle scuole adesso no perché è finita però diciamo da settembre a giugno ecco ci sono sempre persone studenti che devono fare i siti web nelle scuole tu sai forse anche di me chi è studente chi è ragazzo o non ha i soldi o non ha voglia di spendere soldi ok perché non vede magari il valore o magari non gli interessa vederlo ci sono due possibilità e ad oggi le uniche opportunità sono non dico il nome perché non mi sembra bello dirlo però tanto tu sai già il nome al quale mi riferisco è appunto un quell'hosting là che appunto ti costa 10-20 euro l'anno e però hai un servizio che comunque diciamo che non non è che offra tutto sto granché diciamo così e quindi anche c'è il tipo di servizio che le persone appunto degli ragazzi ricevono non è poi quello che appunto cioè non sperimentano la vera esperienza di ospitare un sito web cioè quando una persona ad esempio prende quel tipo di hosting quegli hosting proprio economici economici non sta sperimentando com'è veramente farlo su un hosting tipo sideground mi vedi? sì adesso sì ok scusa allora ho avuto un problema mi sa con la rete perché mi si era scollegato qualcosa dove mi hai perso? no no mi dicevi appunto che ci sono dei cioè un provider che voi utilizzate che ha basso costo ma anche un servizio limitato ah lì ecco e dicevo cioè quando per esempio esempio molto stupido con questo hosting qua se tu vai per esempio a appunto installare wordpress come one click ad esempio da lui uno username già preimpostato una password che la creano loro ma in generale sono tantissime cose già dalla grafica dai servizi tantissime cose che non è appunto e rende appunto più complicata anche la gestione di un sito wordpress in quel modo quindi non è vero cioè non è la vera esperienza che tu hai nel gestire appunto un sito web wordpress o quello che che avresti utilizzando magari un hosting che non è sì è premium però io vi ritengo come hosting un hosting buono diciamo così e per cui io quello che dico cioè avete pensato mai a idee magari per appunto andare a cercare a prendere proprio quel tipo di utenti di utenti perché sono degli utenti in cui utenti lì se si lavora bene c'è tantissima richiesta allora in realtà sì io ho una risposta ben precisa che magari non ti piace su questa domanda nel senso che negli anni abbiamo ragionato più e più volte come stai anche in America abbiamo fatto nel mercato americano abbiamo fatto e facciamo tuttora le promozioni students che adesso non ricordo esattamente ma se non sbaglio costa un dollaro l'anno una cosa del genere è praticamente gratuito serve il dollaro solo per validare una carta di credito e questo non sarebbe niente sì sì no esatto in Italia ho fatto io personalmente un paio di volte questa cosa qua all'interno dell'università dove siamo andati anche a parlare siamo andati a parlare abbiamo spiegato come funziona il servizio l'ultima che abbiamo fatto è stata l'università di Bologna tra l'altro eravamo già in fase covid quindi l'abbiamo dovuta fare purtroppo via Skype c'è un problema diciamo legato a questo per noi non sarebbe complesso fare offerte particolari o una riduzione dei servizi il vero problema per noi è che tutte queste persone che tu citi non sono skilled come Matteo Spirandelli e questo per noi è un po' un problema perché come sai noi abbiamo sempre detto che siamo bravi sull'assistenza siamo veloci a rispondere cerchiamo di aiutarti il più possibile di recente come sai abbiamo avuto alcuni problemi legati al fatto che ci sono state troppe persone sembra ridicolo ma è così troppe persone che si sono iscritte a Siteground abbiamo avuto troppi clienti e tanti di questi clienti erano di di basso profilo basso profilo cosa vuol dire vuol dire che sono persone che hanno voglia di creare un sito hanno voglia di provare i loro progetti quindi una cosa fantastica sicuramente ma allo stesso tempo proprio perché non hanno competenze particolari non dico essere tecnici però almeno avere le competenze base per lavorare un minimo su WordPress ci porta a intasare quella che è la nostra assistenza e intasare la nostra assistenza significa non poter essere performanti nel dare assistenza a chi realmente ne ha bisogno e chi soprattutto ci lavora con il proprio sito quindi a dire che ve la siete un po' cercata sì 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 no no ma infatti questo questo era ti volevo rispondere infatti era legato a quello che dicevi te prima dello 099 noi abbiamo fatto negli anni diverse offerte sempre andate più o meno bene siamo sempre stati soddisfatti questa volta qua ti dico proprio come è andato il percorso dell'evoluzione dell'offerta Covid in Italia parte il Covid è partito prima che negli altri paesi prima che in America prima che negli altri paesi europei quindi niente ci troviamo a tavolino e diciamo va bene come sta il ground Italia ne meravigliamo che cosa vogliamo fare facciamo delle scontistiche piuttosto che all'inizio all'inizio noi non eravamo tanto convinti di fare scontistiche o se le facevamo e hanno detto facciamo una scontistica che è un po' più sconto del normale il problema qual è stato che nel giro di pochissimi giorni esagero di un paio di settimane il Covid si è diffuso tantissimo in Italia siamo arrivati in una fase di pre-lockdown totale comunque già non si potevano fare tante cose e tante aziende intorno a noi non solo che si occupano di hosting hanno cominciato a fare offerte dove offrivano servizi regalavano altro e hanno cominciato tante persone a chiederci a noi direttamente se volevamo e se eravamo intenzionati a fare offerte particolari per aiutare le persone in difficoltà soprattutto i negozi che stavano chiudendo e non avevano magari un sito web in una situazione del genere noi visto quello che dicevi prima non ci siamo fatti prendere dall'idea marketing ma ci siamo fatti prendere un po' dal cuore e cosa abbiamo detto è vero la gente è in difficoltà cerchiamo di aiutarla il più possibile come la possiamo aiutare azzerando i prezzi e quindi abbiamo fatto anche qui in questo caso 0,99 anche lì per validazione per avere una carta di credito valida e da lì è nata l'idea di fare i servizi a 0,99 questa cosa qua è nata e lo posso dire tranquillamente erroneamente a posteriori da un sentore diciamo di voler aiutare le persone senza pensare una cosa che non ho mai capito permettimi solo di chiedere chi è che per esempio ha creato cioè comunque ha pensato a questa roba qua tu oppure i direttori dalla Bulgaria no allora io praticamente faccio settimanalmente due due riunioni principali una è con tutti i manager dei vari canali quindi ci troviamo a tavolino e parliamo di quello che potrebbero essere le strategie quello che stiamo facendo e una volta a settimana mi ritrovo con quello che è il COO Chief Operation Officer di Siteground Global decidiamo quelli che sono gli interventi da fare in questo caso sul market italiano e lì abbiamo messo giù delle proposte cioè abbiamo detto vediamo cosa fanno i competitor vediamo cosa possiamo fare noi e decidiamo che cosa fare adesso non mi ricordo chi ha ipotizzato il 099 piuttosto che la persona non me lo ricordo ma è una cosa abbastanza di gruppo nel senso che ognuno fa delle proposte si valutano le possibilità la fattibilità e l'attuazione e diciamo va bene si fa in questo caso era anche come ripeto era molto a cuore nel senso che diciamo a questo punto se devi ribassare il prezzo il più possibile tanto vale metterlo sotto il dollaro metterlo sotto l'euro quindi eravamo tutti concordi l'errore se vuoi dal punto di vista non di marketing ma di strategia è stato quello di dire aiutiamo le persone cioè è brutto dire se noi abbiamo pensato ad aiutare le persone non ad aiutare noi stessi e questo ci ha portato al fatto che abbiamo avuto un boom ovviamente di iscrizioni di persone che volevano provare il servizio ma anche un boom all'interno del servizio di assistenza perché tutte queste persone come ti dicevo non dico la maggior parte però tante di queste persone magari non erano capaci di gestire un sito un servizio di hosting e quant'altro e quindi si riversavano nell'assistenza detto questo abbiamo avuto un periodo di due mesi diciamo un mese e mezzo in cui l'assistenza era presa d'assalto giornalmente con centinaia centinaia di richieste continue perché tutti volevano fare le loro domande avere curiosità anche semplicemente chiedere come funzionava la promozione non ci pentiamo di averlo fatto nel senso siamo contenti di aver aiutato le persone in questo però in un futuro ci ricanceriamo ad organizzarlo posso dire che effettivamente una volta nel periodo di lockdown proprio fit una volta ero entrato in live chat e mi dava come tempo stato di attesa 153 minuti e lì ho detto ma forse mi sa che è meglio che tengo aperto e vado un attimo a fare altre cose guarda noi abbiamo io ti dico come mercato italiano perché poi di quello mi occupo degli altri mercati ho visione dei numeri però non voglio dare numeri sbagliati come mercato italiano in aprile che è stato un mese più di picco abbiamo fatto il 275% in più rispetto all'anno precedente 275% in più noi stessi io stesso non mi aspettavo un boom di questo tipo devo essere sincero da una parte ero contento dall'altra ero ho passato un mese bruttissimo dove cercavamo di trovare tutte le soluzioni possibili perché il problema qual è? che quando tu fai una cosa del genere non è che poi puoi dire ah sapete che c'è ritiro tutto e chi si è visto si è visto noi ormai ci eravamo esposti e ci abbiamo detto vogliamo offrire a tutti la possibilità di creare un sito gratuitamente e l'abbiamo fatto non ci aspettavamo una risposta così ampia però devo dire che effettivamente le persone hanno risposto in modo positivo anche al fatto che l'assistenza richiedeva molto più tempo dei soliti minuti dei soliti secondi perché le persone all'inizio è ovvio anch'io lo farei si arrabbiano e poi dicono ma cavolo io ho pagato anche se ho pagato un euro ho pagato richiedo un servizio voglio assistenza poi ovviamente noi gli spiegavamo perché era così non c'è nulla di nascosto non c'è nulla di segreto tutto alla luce del sole abbiamo detto guardate ragazzi ci dispiace in questo momento abbiamo tutti i ragazzi dell'assistenza che stanno gestendo le cose da casa in home working perché non c'è possibile stare in ufficio quindi anche la sinergia fra il team era inferiore e diciamo era una roba nuova per tutti abbiamo un numero di richieste veramente elevato dato dal fatto che tutti sono a casa tutti stanno provando a fare un sito tutti stanno comprando da noi ci scusiamo chiediamo la cortesia di comprendere e attendere e effettivamente non abbiamo avuto queste grandi lamentazioni ovviamente c'è sempre chi si lamenta di più chi si lamenta di meno però in generale non abbiamo da lì poi nascere l'intuizione l'idea di dire di creare quel messaggio che abbiamo inserito nelle le parliamo fra un secondo le parliamo fra un secondo volevo perché poi so che è un punto interessante però ne parliamo fra un secondo perché quello sai che appunto ti ho contattato diverse volte mi ti avrò fatto arrabbiare anche diverse volte ma appunto anche proprio sull'assistenza a me sembravate proprio essere cambiati ma non solo sull'assistenza come servizio esempio stupido e da un po' di tempo che voi per esempio nelle live chat avete tolto il numero di richieste gestite talmente e mi chiedo ma perché cioè è un fatto lì di non so perché ma no abbiamo abbiamo inserito c'è il tempo di attesa no 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 quando sei in chat con l'operatore a destra tu ti riferisci al profilo dell'operatore sì sì ok ah guarda sulla sulla su questo non ti so rispondere perché è sicuramente una decisione che ha preso il il director dell'assistenza clienti e non non saprei dire può essere può essere ipotizzo io ma non lo so giuro che ci siano state magari ci sono persone che si è come quando tu offri un servizio B2C quando sei direttamente legato in contatto col consumatore il consumatore non è omogeneo è eterogeneo e c'è la persona gentile c'è la persona aggressiva c'è la persona tecnica c'è la persona invece non tecnica e può essere che magari ci siano persone che vedono che tu sei nuovo hai gestito poche deciliciate dicono ah io non voglio parlare con te immagino però siccome so che esistono anche queste situazioni può essere che dicano sa che c'è a questo punto tagliamo la testa al toro e livelliamo tutto quanto è l'unico è l'unico motivo che mi viene in mente magari c'è un motivo puramente estetico di layout io questo non lo so perché ovviamente non è una cosa che personalmente prendo in considerazione guardo e decido nel senso che è una questione di gestione del sistema di assistenza e poi un altro cambio che ho notato è anche so che è stupido ma anche il ruolo dei consulenti ad essere cambiato customer support e poi tende adesso customer support specialist tipo una cosa del genere c'è un motivo no anche qui anche qui ti dico allora noi come SiteGround abbiamo il dipartimento di assistenza che è immenso che è il dipartimento più grande di tutto SiteGround quello di assistenza che non dico separato ma vive un po' a sé perché è un grande dipartimento con operatori senior supervisor dei senior supervisor dei supervisor quindi è proprio un girone dantesco a livelli che vive un po' da sé e in base dei feedback interni del loro stesso dipartimento decidono e gestiscono le cose noi non dico che non abbiamo visibilità io ho totale visibilità su tutto tante volte non me ne preoccupo nel senso che se il director del customer care decide di cambiare i job title da rappresentante a specialist va bene non me ne preoccupo neanche non vado a informarmi nel senso sono stranoioso questo però mi è piaciuto un po' più curioso perché sembra quasi come se a parte che adesso su LinkedIn c'è un pieno tipo olandese tutti annunci di lavori un sacco di lingue prima erano tipo tre lingue al massimo italiano spagnolo inglese adesso sì perché stiamo cercando di aprire nuovi mercati il primo è quello tedesco e stiamo stiamo preparando tutto però non c'è ancora un responsabile tedesco come per esempio può essere te no al momento no è una cosa che richiede tempo ovviamente al momento stiamo lavorando sulla produzione del sito delle traduzioni traduzione dei tutorial dei contenuti e la formazione di quello che è personale di assistenza in lingua tedesca è una cosa che però non ti so dare una deadline per questo perché come puoi immaginare è complesso e richiede tempo quindi per il momento è una cosa fra virgolette segreta cioè non è veramente segreta però stiamo lavorando perché la nostra intenzione è andare anche in quel mercato in modo fatto bene come abbiamo fatto per Spagna e Italia ci stiamo lavorando però non saprei dirti veramente quelli che sono le tempistiche perché è difficile prevederle capisco ma è interessante perché appunto sembrava mi sembrava come se voi avessi cambiato qualcuno come direttore perché è veramente cambiato molto diciamo in questo no guarda ti dico sinceramente non è cambiata nessuna figura apicale nell'azienda assolutamente le differenze che tu puoi aver notato nell'assistenza derivano tutte da quello che stavo spiegando prima no no non differenze di quel tipo che ce l'abbiamo a fare un secondo ma del tipo ripeto di cambiare appunto di questi ruoli sembra un po' quasi in generale proprio sembra sembra un qualcosa quasi di cioè lasciando stare proprio l'assistenza di quella cosa che adesso andiamo a parlare quello dei blocchi delle limitazioni ma in generale proprio c'è un campo tutto a livello generale che ha i suoi almeno penso ai suoi dubbi o comunque cose cose curiose ecco ma guarda sono di quelli che mi c'è di te comunque sono interventi veramente minimi e poco influiscono in realtà allora saranno delle scelte ripeto che sono state fatte in base a quelli che sono dei report interni fatti all'interno del dipartimento di assistenza però non andrei a cercarci qualche qualche ragione particolare sinceramente sono ottimizzazioni che vengono fatte come vengono fatte ottimizzazioni in qualsiasi cosa dico una banalità adesso rifacciamo il footer del sito perché non ci piace non c'è una vera ragione semplicemente lo troviamo confusionario e poco espressivo lo rifacciamo però non è che c'è dietro qualcosa di complesso uno studio particolare magari c'è dietro qualcuno magari messo qualcun altro al campo no 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 confiorno allora passiamo invece a parlare invece proprio dell'assistenza che è un punto effettivamente per il quale io personalmente devo dire verità amo SiteGround cioè io ho sempre amato SiteGround perché comunque è vero avete anche ovviamente come tutte le aziende come tutte le realtà grosse avete no le vostre qualche volta che magari venite stito male ho avuto anche delle brutte esperienze però delle esperienze non tanto capito da top servizio però come vista generale perché io ormai con aziende come SiteGround che sono ormai da tempo cosa tre anni ormai cliente io le ritengo essere molto relazionali cioè io non guardo il singolo caso ah no hai sbagliato quello ma io guardo proprio in generale il servizio a livello globale e sul livello globale posso dire che effettivamente siete grandi come persone come come idee proprio e appunto credo molto in quello che fate grazie però c'è qualcosa che ancora mi sta proprio qua cioè nella vostra tra tutte le cose vedo che già tra tutte le cose che appunto avete fatto nel campo appunto di cercare un attimo di ripienare un po' dire ok cercherò di rispondere più velocemente ed effettivamente è vero perché ultimamente sono tante che le vostre cos'è a giugno forse avevo fatto una richiesta forse non ricordo non ricordo bene però dovevo entrare in chat un mesetto fa forse e vedrò che la chat è apparente senza tempi di attesa infatti subito mi hanno poi subito salito quindi effettivamente funziona no questo di verità però il dubbio rimane più a livello global mi spiego cioè avete inserito qualcosa che secondo me non penso si sia mai visto almeno io personalmente non l'ho mai visto almeno che non me ne ricordo cioè voi avete inserito che dopo x richieste quindi dopo che una persona fa tot richieste praticamente viene bloccato cioè la persona non può più fare richieste tramite chat o tramite telefono giusto anche il telefono adesso ti spiego no no il telefono è un'altra questione il telefono ti spiego perché è un è un discorso complesso in realtà posso vado solo una cosa volevo dire così poi ti lascio la parola ti lascio proprio in grande proprio è proprio una mia riflessione cioè sul fatto che io personalmente l'ho provato anche adesso il mio secondo il mio caso per la scuola aveva appunto il era stato limitato poi è tutto risolto però è stato limitato e quando ho aperto il ticket perché dopo aver contato via live chat diciamo nella parte 6 e no devi contare i servizi clienti tecnico e no devi aprire un ticket vabbè apri un ticket e mi sembra di essere lei presente tipo la targhetta tipo scritto quasi bloccato questo può fare solo report di servizio qua cioè sembra veramente che io fossi targhetta targhetta e su un'etichetta qua che mi dica no tu puoi fare e quindi mi sentivo ecco un po' non benissimo non mi sentivo a mio agio ecco non mi sembra un po' l'esperienza che di solito io consaglio prego ti lascio la parola ti metto anche in grande ma allora il discorso è molto ampio in realtà intanto premetto che non so se hai avuto l'occasione di vedere adesso non esiste più questa funzione di blocco cioè è durata circa un mese si 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 no è per quello che dico è un discorso molto ampio è stata una misura d'emergenza e sempre così l'abbiamo l'abbiamo definita una misura emergenziale e temporanea perché noi siamo diventati famosi come assistenza per essere molto veloci nel rispondere e per essere sempre disponibili nell'aiutare e nel risolvere problemi che non sono direttamente legati all'hosting l'abbiamo sempre fatto volentieri anche se in realtà non rientra nell'ambito della nostra assistenza nel senso che la nostra assistenza noi offriamo un servizio di hosting e facciamo assistenza sull'hosting poi ovviamente contestualmente chi usa il nostro hosting usa anche wordpress per esempio ma noi non siamo mai stati non abbiamo mai non siamo mai stati un servizio di assistenza per wordpress l'abbiamo sempre fatto perché ci faceva piacere aiutare le persone il più possibile nel risolvere i loro problemi anche con un sistema che però non è nostro perché wordpress non è nostro diciamo che avendo per anni lavorato in questo modo e avendo sempre risposto in 15 secondi o in 5 secondi avendo sempre risposto a queste domande la gente si è abituata i clienti si sono abituati a questo tipo di servizio e nel momento in cui noi abbiamo fatto notare che effettivamente ci stavano chiedendo troppe facendo troppe domande su servizi non nostri c'è stato un rigetto da parte delle persone sostanzialmente cosa è successo che con l'aumento improvviso di clienti negli scorsi mesi sono aumentate anche le richieste di assistenza e fin lì va bene ne abbiamo già discusso il problema è che io direi che la maggior parte veramente la maggior parte delle richieste che ci venivano fatte non erano sui nostri servizi e questo è stato il vero problema il problema è che tante persone facevano domande alla nostra assistenza e occupavano per diverso tempo l'assistenza facendo domande o veramente basiche nel senso che voleva dire che semplicemente non si impegnavano neanche a cercare le cose nel senso che c'erano domande del tipo come faccio a creare un nuovo sito adesso permettimi di essere un po' franco ma nella nostra era utente c'è scritto c'è un bottone grosso arancione scritto nuovo sito cioè disturbare l'assistenza per questo mi sembra una cosa e tante domande come questo come faccio a creare un nuovo sito come faccio a cambiare la password quando in qualsiasi sistema basta andare nelle impostazioni e fare cambio a password tante di queste domande molto basiche più tante domande relative non ai nostri servizi quindi voglio cambiare il tema WordPress perché quello che utilizzo mi piace più ci sono conflitti ci sono problemi piuttosto che domande su Google perdonami se la prendo un po' sul non ridere però la prendo un po' sul bene se c'erano poche richieste sui vostri servizi vuol dire che i vostri servizi andavano bene quindi dovreste essere contenti di questo in teoria sì però il problema è che noi siamo stati presi totalmente come un servizio di supporto WordPress più che altro e comunque in generale sul sito web ci venivano fatte domande sullo sviluppo del sito sulla mantenimento del sito cose del genere quando in realtà noi siamo una società di hosting facciamo altro quindi noi abbiamo detto a un certo punto ed è scritto nei nostri termini e condizioni dell'assistenza proprio nei nostri termini e condition tu puoi andare a vedere dove c'è scritto che noi offriamo servizi di assistenza sui nostri servizi sull'hosting su problemi legati direttamente ai nostri servizi altrimenti ed è scritto da sempre questo nei nostri termini e condizioni altrimenti possiamo rifiutare l'assistenza nel caso ci venga chiesto qualcosa che non è collegato a noi perché altrimenti arriva qualcuno e mi chiede assistenza su come montare un televisore e cioè è ovvio che nei miei termini e condizioni devo dire guarda scusami non posso aiutarti su sta roba qua perché non è un mio servizio adesso la sto esagerando ma un po' così perché wordpress non è un nostro servizio noi utilizziamo wordpress e chi utilizza wordpress utilizza noi ma abbiamo sempre fatto assistenza su wordpress volentieri ma perché noi abbiamo sempre fatto qualcosa che tecnicamente non ci era richiesta non era tenuto a fare da parte nostra abbiamo sempre fatto volentieri il problema è che quando si hanno tante 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 persone di improvviso con picchi di questo tipo e si hanno centinaia e migliaia di domande al giorno solo nel mercato italiano di questo tipo abbiamo dovuto tirare in barca e dire attenzione ragazzi attenzione e da lì nasce il box che abbiamo messo informativo vi vogliamo far presente che lo scopo della nostra assistenza è aiutare le persone su problemi relativi all'hosting non a tutto il resto perché tutto il resto noi non possiamo gestirlo altrimenti potreste veramente chiedere come montare un televisore colpa nostra nel senso che negli anni forse abbiamo avvito troppo bene gli utenti sicuramente siamo anche soddisfatti di questa cosa qua però ci sono state veramente troppe richieste per migliorare il servizio se abbiamo tolto le persone tra l'altro dal telefono l'assistenza telefonica permette in chat cercare di dare un boost comunque non è bastato perché le richieste saranno troppe e quindi il blocco della chat è stato dovuto è stato richiesto da questo blocco della chat che tra l'altro funziona in questo modo quando la media delle richieste che vengono fatte dall'utente supera la media globale le richieste fatte da tutti gli utenti viene bloccato per un certo periodo il blocco tra l'altro è temporaneo è emergenziale e ti permette di avviare dei ticket che comunque hanno una risposta nella giornata è ovvio che rallenta il sistema di risposta mi è anche fatto apposta per dire invece che aprirmi dieci chat per dieci problemi aprimi un ticket per tutti i problemi li condensi e io ti rispondo tutto c'era proprio un'ottimizzazione di ricerca ed è stato un sistema che abbiamo dovuto utilizzare ovviamente l'abbiamo tolto appena possibile per un breve periodo di tempo perché altrimenti non riuscivamo a gestire tutte quelle che erano le richieste adesso cosa facciamo non blocchiamo più la chat perché il periodo di emergenza è finito molte meno persone sono a casa e molte meno persone fanno richieste facciamo vedere comunque il messaggio se fai troppe richieste non vieni bloccato la chat la puoi usare ma prima di usare la chat ti viene comunque scritto attenzione che questo è un servizio di assistenza per i servizi di hosting quindi se hai domande relative allo sviluppo del sito contatta questo 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 sviluppatore piuttosto che se hai domande inerenti all'utilizzo di wordpress ti consigliamo i nostri partner faccio un esempio ssvp cioè facciamo questo tipo di comunicazione che salutiamo facciamo questo tipo di comunicazione che è necessario perché altrimenti non riusciamo a garantire quella che è la vera assistenza che noi dobbiamo fare che è sui nostri servizi quindi se tu hai un malware se tu hai un qualche problema di hosting è quello che noi dobbiamo risolvere subito non dobbiamo risolvere il problema del tema scusami Luca non voglio fare il cattivo in questa situazione qua però se cioè se tu hai il problema di non poter cioè siccome il fatto è come dicevi tu prima per il prezzo siccome voi avete fatto invece quello che dicevi tu prima col prezzo qui cioè ah no inizialmente vi stiamo andando col fatto anche c'era proprio scritto anche bel grosso così sulla vecchia pagina di assistenza noi facciamo di più degli altri degli altri sociali di hosting noi ti offriamo assistenza anche per dubbi e per problemi che riguardano il cms una volta che tu offri un servizio secondo me non è che tu puoi dire ah no adesso non basta adesso non ci compete ho capito che non vi compete però cioè se oggi se fino ad oggi siete qua io magari vi ho anche scelti perché proprio mi offrivo questa questa cosa io per esempio spesso mi avete fatto comodo quando per esempio ho avuto dei primi con proprio degli eroi fatali cioè proprio tu hai la pagina proprio bianca del sito qualche volta è capitato e non lo nascondo che ho chiesto a Saiga un aiuto per questo ma hai fatto bene hai fatto bene perché come dicevi te come dicevi te noi abbiamo sempre aiutato però io sto parlando tutto quello che sto dicendo è una situazione emergenziale è una situazione che noi abbiamo ben specificato ad essere critica emergenziale temporanea cioè nel momento in cui io ti dico cioè io spero ed è tante volte è stato anche così da parte dal punto di vista dei clienti io ti dico guarda io ho sempre fatto una cosa del genere che è più di quello che tecnicamente dovrei fare lo faccio sempre fatto volentieri non è che noi ci lamentiamo assolutamente lo facciamo volentieri lo stiamo facendo anche adesso come prima aiutiamo su WordPress però abbiamo detto visto che c'è questa situazione particolare la gestione del lavoro è più complicata anche per noi perché stiamo lavorando tutti da casa abbiamo molte più richieste perché tutti sono a casa vi facciamo vi chiediamo la cortesia di non postare diecimila ticket scusa diecimila chat per richieste anche veramente banali come faccio a creare un nuovo sito dove c'è il bottone nuovo sito cioè è questo è ovvio che è stata una comunicazione è una comunicazione in qualche modo viene mal percepita ma non c'è altro modo di farlo in quel momento se non in questo modo quando ci sono situazioni di emergenze critiche l'unico modo è essere chiari e diretti in quel modo lì siamo riusciti a mitigare l'assistenza però in quel caso scusa se lo dico so che non è bello da dire ma non era forse meglio magari allargare l'assistenza a quel punto magari anche se non si riesce se hai l'assunzione diretta perché magari effettivamente è un periodo un po' bruttino magari appoggiarsi magari ad altre realtà che magari ripeto questo ti confermo che non era possibile appoggiarsi a qualche altra realtà che possa fornire già agenti abbastanza tecnici che possono in realtà bene o male cercare di aiutare di coprire almeno giusto perché altrimenti capito mi sembra ti fermo perché questo è impossibile per un motivo l'assistenza quando è relativa a un servizio in questo caso SiteGround richiede un minimo e minimo intendo comunque sono settimane di conoscenza del servizio perché tu immaginate andare in assistenza cioè è meglio che tu vai in assistenza e ti diciamo non puoi aprire la chat apri il ticket e ti aiutiamo che tu vada in chat e ti trovi uno che gli dici gli chiedi fai delle domande e lui non sa usare la piattaforma per insegnare ad usare le piattaforma noi abbiamo un processo di recruiting dell'assistenza che dura due mesi lo so però visto che è una situazione emergenziale magari cercare di velocizzare il più possibile per trovare un modo comunque di garantire lo stesso servizio perché a quel punto guarda ti assicuro abbiamo pensato a tutto non è fattibile perché vorrebbe dire fare del mentoring fare del tutoring alle persone vuol dire anche prendere persone che magari a distanza perché non ci sono gli uffici non le conosci non le incontri non sai come lavorano non sai le loro esperienze buttarle a fare assistenza senza sapere nulla di loro e senza che loro sappiano nulla del tuo servizio è un rischio troppo grosso rischi di fare veramente danni allora a quel punto dici guarda rallento rallento la corsa rallento la modalità di assistenza ma sono sicuro che chi ti risponde è un tecnico competente di cyber ma allora a quel punto là non era meglio magari mettere parte del team senior in chat o magari come abbiamo fatto mettere in chat un sistema di traduzione che nei casi in cui magari il servizio inglese magari è un po' più libero magari supportare il team italiano allora abbiamo fatto entrambe le cose che tu stai dicendo abbiamo messo sia la seniority all'interno della chat noi avevamo supervisor tecnici che chattavano giornalmente invece che fare il loro lavoro normalmente di controllo per cercare di coprire il più possibile è stato un boom talmente improvviso talmente grosso che è stato difficile da gestire e abbiamo utilizzato dei sistemi di traduzione simultanea a google ma comunque le performance di quelle traduzioni non è che siano un granché devo essere sincero lo so esatto quindi abbiamo cercato di utilizzare comunque entrambi ma ancora comunque la richiesta è troppo elevata e a un certo punto devi arrivare a un punto in cui ripeto l'abbiamo fatto l'abbiamo fatto coscientemente analizzando tutti i casi possibili immaginabili e abbiamo pensato che l'idea migliore era dire gente è una situazione d'emergenza sappiate che temporaneamente il flusso d'assistenza se utilizzata troppo verrà gestita in questo modo è durata poi pochissimo perché a te quante volte ti è capitato una volta di vederlo il massaggio a me una volta però ti dico è stato un inferno in quel tempo perché io dovevo proprio spostare il sito infatti le ultime richieste non erano relative al fatto del cioè a un qualcosa ho un problema diciamo a livello magari di wordpress ma proprio a livello hosting perché sto facendo un downgrade e infatti ci sono stati problemi anche con il ticket aperto durante il momento del appunto del blocco perché poi adesso non lo sto qua a raccontare perché praticamente dovevo fare il downgrade te l'avevo detto forse allora inizialmente sono andato nel dico giorno prima avevo chiamato giorno l'altro prima avevo aperto una chat ma ancora niente io dovevo utilizzare il sito non potevo tanto aspettare allora era cos'è domenica forse vado nella sessione per aprire un'altra chat mi trovo tutto chiuso provo ad andare nella live chat italiana sales mi dico ah no guarda purtroppo non posso aiutarti quindi perché tu hai un caso solo ticket però dico guarda che è qualcosa che riguarda voi non è un qualcosa capito di wordpress che allora tu mi dici no guarda cioè è qualcosa veramente relativo proprio a voi infatti ero lì per provare ad aprire a parlare con un supervisor solo che alla fine il supervisor non mi ha più risposto dopo tipo mezz'ora ho chiuso perché erano forse così impegnati che non avevano neanche tempo di gestire le richieste quindi purtroppo c'è stato anche quello allora alla fine ho aperto il ticket il consulente cioè il senior mi ha detto ah no ok abbiamo già fatto l'aggiornamento allora io continuo a fare il lavoro pochi giorni prima dell'esame mi arriva una c'è un altro giornamento da un supervisor nel ticket che mi dice guardi mi scusi se riapro questo trigger qua c'è stata una malcompressione perché in realtà il sito non è stato ancora trasferito per fortuna poi una volta che gli dico ok hai fatto l'adesso poi in tipo meno di un'ora l'hanno fatto sono dei grandi su quelli barri però ecco secondo me anche il fatto vedi cosa dicevi tu è vero che ci sono tre più richieste ma io a quel punto fare due cose o a quel punto ok tu dici noi non forniamo solo l'assistenza da sua epoca ma anziché dire ok forniamo l'assistenza solo sui nostri servizi perché non spostare tutta l'assistenza tra le rette wordpress possiamo dire così quindi assistiamo anche per wordpress assistiamo per tutto lo che ti offre non si può fare non si può fare neanche quello sempre il solito discorso perché poi quando per esperienza te lo dico una persona quando entra in chat parte con un problema che magari è wordpress ma poi si dice ah già che sono qui faccio domande anche su altre cose e quindi fa domande sul servizio cioè noi non ci possiamo permettere che una persona con cui tu parli non abbia una visione a 360 gradi e di wordpress e dei nostri servizi quindi non è per sicuro non è per avere delle competenze degli operatori che funzionano e sanno lavorare io intendo voi avete quando una persona veniva limitata potrebbe aprire solo un ticket relativo a cose dei vostri servizi ma non rende la possibilità anche di aprire un ticket anche riguardo i servizi anche le cose non relative ai vostri servizi no no anche lì è sempre lo stesso motivo nel senso che in un momento ripeto l'emergenza è particolare se noi avessimo dato anche questa possibilità ci saremmo trovati intasati di ticket cioè capito di gente che chiedeva cose di wordpress ripeto le situazioni bisogna sempre vedere il tutto nella situazione in cui si prefigurano e avvengono è stata una situazione unica nell'arco dei nostri 15 anni di attività nell'arco della vita di tutti noi è stata una situazione particolare che speriamo non ricapiti di più e noi come tante altre aziende nei loro ambiti hanno dovuto attuare delle strategie di gestione differente che poi abbiamo risolto come vedi abbiamo risolto velocemente tant'è vero che se tu adesso contatti l'assistenza hai dei tempi di attesa zero e invece perché non appunto come avevo detto forse anche a Cristo perché ne ho parlato anche con lui perché non dare la possibilità magari che non so se per esempio mettiamo a caso rapporto chat ok ma tutte relative ai vostri servizi non è che parlo di altri servizi solo i vostri servizi chat solo i servizi sideground perché non dare la possibilità all'operatore di dire ok questa è una cosa dei vostri servizi o che è una cosa di wordpress o di altro e a quel punto là diciamo tra virgolette anche se non è così punire limitare solo le persone che ti contattano cose relative a word cioè a cose altre ma guarda immagino immagino te l'abbia detto anche Cristo noi ci abbiamo pensato a questo abbiamo pensato a diverse soluzioni in realtà abbiamo pensato a delle soluzioni qualitative di blocco di quantitative e altro ed erano tutte sono ancora tutte in mente diciamo nella mente anche degli sviluppatori in lavorazione nell'eventualità che la situazione doveva essere ricapitare e nell'eventualità la stavamo pensando la situazione perdurasse nel tempo cioè noi non sapevamo effettivamente questa situazione quanto durava il lockdown per noi poteva anche durare sei mesi e quindi dovevamo cercare noi abbiamo fatto tutto da un giorno all'altro tieni conto che noi abbiamo dovuto gestire tutta questa cosa qua veramente da un giorno all'altro fra per adesso nel giro di pochissimi giorni in una settimana e quindi non c'era il tempo tecnico di dire lavoriamo e sviluppiamo una struttura di un sistema di questo tipo abbiamo fatto quello che si poteva fare nel breve termine consci del fatto che sarebbe durato pochissimo tante volte che ogni persona che ci contattava diciamo guarda che non ti preoccupare che è una roba che dura il tempo dell'emergenza e poi ritorniamo ad essere performanti al 100% tante persone dicevano vabbè lo capisco anch'io con la mia attività sono in crisi ho problemi quindi capisco che lo possiate essere anche voi avremmo ovviamente fatto quello che dici te una cosa come quella che dici te però adesso che è finita diciamo l'emergenza o comunque diciamo l'emergenza supporto state lavorando anche per in caso riaccada essere preparati quindi avere operatori avere piattaforme avere soluzioni vi state preparando anche per quello di modo per essere già pronti così magari da evitare proprio di mettere blocco perché magari ad esempio ci stiamo preparando se la tua idea di preparazione è per esempio assumere 100 persone in più non è quella la soluzione per un motivo perché essendo proprio una situazione particolare adesso gli operatori che abbiamo attivi sono più che sufficienti faccio un esempio banale se nella media giornaliera noi abbiamo 10 operatori in Italia costantemente attivi ok e sono più che sufficienti a dare una risposta in 5 secondi non ha senso oggi assumerne 20 perché vorrebbe dire che pagherai il doppio degli operatori con le stesse performance perché meglio di di 0 secondi non c'è come performance quindi e non è che posso permettermi a livello proprio di strategia aziendale di mantenere 20 persone che praticamente lavora alla metà perché eventualmente in un futuro avrà una crisi se dovesse capitare un'altra crisi io sono consapevole del fatto e le persone devono essere consapevole del fatto che ci possono essere delle performance inferiori non nel servizio perché il servizio è sempre al 100% ma nella gestione magari delle richieste ma è umano questo in qualsiasi servizio e mercato che ti possa capitare quando succede qualcosa di particolare è umanamente comprensibile che ci siano dei ritardi anche Amazon o la Bartolini piuttosto che ti dice ragazzi sappi che il tuo pacco può essere che non arriva domani ma arriva fra due giorni non è che dici ah bastardi Amazon cioè apri le braccia e dici lo capisco e invece averli proprio chiamata queste persone cioè 20 persone ad esempio che tu sai che sono là però non è che tu li paghi ogni mese magari li fai venire solo quando c'è bisogno alcune aziende per esempio fanno così no anche qua non ha senso nel nostro ambito nella nostra azienda perlomeno abbiamo una cultura aziendale totalmente diversa soprattutto sulle assunzioni noi una persona sideground fa parte della famiglia sideground è una persona che ha accesso a tutte le agevolazioni a tutti i servizi a tutti i vantaggi e è una persona che viene assunta a tempo indeterminato che ha tutto un percorso di formazione quindi al momento posso assicurare che non c'è totalmente l'idea di fare una cosa del genere è perché secondo me appunto è una grande sfida poi per esempio una roba che l'unica volta che ho visto una cosa del genere che appunto che fate voi è stato con Apple allora Apple non fa una roba come fate voi però quando una volta ho telefonato al servizio clienti Apple questo qua per ora come se questo qua fosse la seconda telefonata comunque se ho fatto diverse telefonate riguardo lo stesso problema allora mi è passato il supporto senior ma basta cioè non è che ti limitano anche durante il lockdown non hanno limitato nulla ovviamente è un altro tipo di grandezza e loro si appoggiano credo a teleperformance sì sì a teleperformance un'azienda proprio di contact center quindi è totalmente un'altra cosa poi in house è un po' più complicato probabilmente lo capisco però ecco secondo me in futuro lavorare anche per strutturare un sistema che renda il più possibile magari anche l'essere un po' più agili la possibilità di avere magari in caso ce ne sia bisogno altri che esempio stupidamente appoggiarsi magari a un partner io mi immagino un partner solido magari di contact center che magari possa essere cioè non non è che deve essere capito cioè devono essere più possibili devono seguire la vostra stessa politica la vostra stessa ideologia che però poi sono più pronti sono più agili quindi metti c'è un bisogno di più persone è un po' un po' è un po' contro la logica che abbiamo noi di gestione dell'assistenza ed è anche il motivo per cui noi ci differenziamo nella gestione dell'assistenza è il motivo per cui abbiamo vinto l'anno scorso il premio come migliore assistenza IT cioè vi ho votato anche io grazie è proprio una logica diversa dal punto di vista di agilità tutto può essere fatto dipende l'agilità quanto incide sulle performance sul tipo di risposta di capacità delle persone allora cerchiamo di mantenere un'alta qualità e qualora dovessero esserci delle crisi che ripeto è la prima che avviene in 16 anni ma è avvenuta tra tutto il mondo 16 anni nostri di attività ma dico cerchiamo di risolverla al meglio cercheremo sicuramente la risolveremo al meglio rispetto ad adesso io confido anche molto nella comprensione delle persone in momenti in cui tutti stanno avendo una difficoltà di capire che non siamo marziani siamo anche noi persone stiamo facendo il nostro meglio per risolvere la situazione e quindi mi affido diciamo a questo modo di pensare delle persone quando tornerà il telefono? cosa? quando tornerà il telefono? per il telefono adesso stiamo facendo una variazione di servizio manteniamo adesso gli operatori telefonici in chat per il momento non so darti una data ma praticamente stiamo facendo una variazione proprio del sistema di telefono perché avevamo tante tante telefonate anche da persone che non erano nostri sempre un po' la stessa cosa dicevamo prima persone che non erano nostri clienti perché ci chiedevano informazioni su wordpress aiuto eccetera anche le immagini come ci possono bloccare e quindi come farete voi? molto probabilmente adesso stiamo studiando un sistema di inserimento pin personale tu hai il tuo pin nella tua area utente quindi quando tu chiami ti dice digital to pin e quindi chi ti risponde saprà che Matteo Sperandale sta chiamando e che sei un cliente e invece per quanto riguarda poi tutto il campo del pre sales quindi se io per esempio voglio abbonarmi o domande quindi non sono ancora cliente quello rimarrà invariato però poi il problema che alla fine non si risolve no? no no vabbè in realtà nel pre sales è molto più veloce nel senso che nel pre sale non so come dire il telefono ha il problema di occupare ogni chiamata una persona la chat invece ha il vantaggio che una persona è occupata da diverse chat e nel momento un quarto diciamo così eh sì un terzo diciamo nel momento in cui tu vedi le richieste l'operatore cosa vede vede una dashboard sono gli operatori dedicati solo al sales hanno una dashboard con tutte le richieste che stanno arrivando in real time e vedono ah il telefono io ho sempre avuto no non a telefono in chat sto dicendo in telefono no io parlo del telefono invece del pre sales il telefono proprio ah ok 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 dobbiamo studiarla probabilmente il pre sales rimarrà solo in chat per questo dicevo per evitare per evitare i problemi che ti dicevo prima però non so secondo me cioè spesso magari però dovete poi nel caso dare la possibilità agli operatori poi se il cliente chiede di essere richiamato perché per esempio io spesso magari ho delle mi capita anche un'altra azienda magari devo dire tanta roba devo magari spiegare il mio caso di utilizzo magari devo spiegare qualcosa e preferisco stare al telefono anziché scrivere tutto oppure magari preparare una roba con i messaggi vocali in chat quello sarebbe fantastico il messaggio vocale in chat ci avevamo pensato non credo che lo metteremo per una questione di come si dice registrazione e tracciamento della della conversazione tutte le le conversazioni che vengono in chat in Instagram vengono tracciate e possono essere valutate visualizzate dai senior dagli operatori senior per valutare le performance della della chat soprattutto se vengono dati dei voti negativi alla chat e quindi il fatto che ci sia una tracciatura scritta è ciò che permette una validazione veloce beh tu puoi anche ascoltare l'audio comunque è diventa complesso perché se conosci Buddy Bank no Buddy Bank è una banca digitale di unicredit di quelle che sono clienti da un po' e loro hanno una roba di concierge per esempio loro puntano molto sull'assistenza adesso vi faccio vedere anche ed è carino perché quando tu per esempio vai tu hai adesso ecco tu praticamente hai la possibilità di parlare con loro ma non è una live chat tu devi andare là il problema indica il problema e robe ma è tutto ovviamente più semplice quindi tu vai lì scrivi molto semplicemente vedi qua adesso vabbè c'è la roba però vedi si vede ecco sto semplicemente sto scrivendo io vedi non è che ho non ho cliccato tipo problema inserisci il problema no scrivo entro e scrivo come se sto scrivendo a te è una tua whatsapp alla fine chiarissimo chiarissimo ed è bello in realtà perché l'utente poi è più è più comodo perché comunque della possibilità metti caso io magari stupidamente non è il vostro caso ma metti caso che io magari in macchina è più comodo se io registro così quindi se il nostro utente ci chiama ancora un problema in macchina c'è un problema non è possibile ma ho capito cosa intende noi vogliamo evitare proprio questo perché questo sarebbe un problema perché a noi ci serve per risolvere il problema che ci sia una persona davanti a un computer davanti a un telefono che ci riesca a dire esattamente cosa vede qual è il suo problema eccetera se tu mi mandi un messaggio vocale per me è un problema perché non so quando rintracciarti non so se sei rintracciabile al momento devo capire se quello che io sto facendo come operatore tu lo vedi cioè è una gestione diversa in quel caso guarda ti assicuro che lo scritto rimane però ecco il mio consiglio è magari pensare un secondo anche sul ripeto all'idea del sistema poi generale del 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 pre-sales anche tenerlo anche al telefono perché secondo è una cosa molto importante cioè magari in realtà non abbiamo un progetto su quello definito sicuramente varieremo il contatto telefono tramite pin sicuramente puoi anche fare una roba che per esempio fa anche apple ecco una roba che io sinceramente fai forse in voi quando tu sei nella sessione lì nel pannello per contare l'assistenza avevo già detto forse tu scendi giù e hai già scritto ok chiamata allora clicchi e poi devi telefonare il numero devi fare quindi io ho perso tempo a scrivere quel modulo bene apple fa una cosa interessante ti porta lì quando tu clicchi il telefono ti chiedi al tuo numero di telefono crea un numero di pratica e fa una telefona automatica al tuo telefono che hai inserito tu rispondi ti chiede sì di confermare premi uno se vuoi parlare con un consulente quello più grato per evitare che magari parlare con la società clicchi uno e vieni collegato come se stessi al telefono normale come se hai schienato io sì 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 però la cosa bella è che comunque il consulente è davanti tutte le informazioni l'utente e il cliente non è che deve cliccare premi uno per quello quello è un consiglio che per esempio vi faccio oppure per il per il pre-sales magari farò fare proprio manuale quindi io entro in chat ciao puoi contattarmi o magari mentre sei magari nella chat il cliente dice senti possiamo continuare al telefono che ti devo dire delle cose il consulente può dire perfetto ti chiamo e magari anche pensare è un po' questa idea qua capisco che è più complicato e di me allora se non mi sbaglio voi sono anche in pochi il team del telefono di SiteGround italiano giusto? sì 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 ma è un è un canale che viene poco utilizzato in realtà al telefono mi dicessi che che avevate provato a diminuire l'oraio di supporto di utilizzo perché veniva troppo utilizzato quindi adesso è un po' diminuito no 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 allora adesso no che no aspetta ti ho detto che abbiamo diminuito perché era troppo utilizzato no non ricordo male perché dicevi che c'era troppa gente che chiamava allora per spingere possiamo usare la chat anziché il telefono allora quello no 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 scusa forse mi sono espresso male non è che c'era troppa gente che chiamava è che era il discorso che facevo prima che una chiamata di un utente blocca una persona mentre la chat una chat scusa ho fatto confusione una chiamata blocca un operatore mentre chi è in chat può essere molte persone che bloccano un operatore quindi la performance è triplicata non è che avevamo troppe chiamate è che ovviamente la gestione del stesso numero di chiamata tramite chat incide un terzo in meno a livello proprio di gestione quindi cercavamo di rindirizzare anche le persone che chiamavano più che altro alla chat in generale il telefono è un canale utilizzato perché vabbè tieni conto che su decine centinaia di migliaia di utenti ovviamente qualcuno chiama ma è molto meno utilizzata dalla chat anche perché nella chat puoi mandare i link puoi vedere gli screenshot cioè hai una gestione diversa della cosa e quando stai lavorando su questo devo dire di realtà Apple ha lavorato molto bene per me ti prendo sempre loro come esempio ma come esempio si stai prendendo e no però diciamo che alla fine come aziende in realtà la vostra cioè entrambi siete aziende molto spinte verso l'assistenza quindi siete simili anche loro hanno avuto il stesso problema cioè se ti devono inviare dei file come fai beh in realtà è possibile hanno creato un sistema di uploader il consulente chiede l'indirizzo mail all'inizio lui manda una mail una mail automatica che dice carica qui i file tu vai là carichi e poi quindi in realtà è possibile è un po' più complicato però secondo me è possibile una cosa che ho sempre guardato però quando chiamavo perché io spesso preferisco telefonare sono un vecchio su quello ma c'erano delle volte che tipo ho dovuto aspettare anche tipo dieci minuti che per me non era che pesava però era tipo un era perché c'è solo un consulente alla volta al telefono giusto va bene comunque vedo che sono arrivati un'ora e venti di registrazione io tra poco volevo scappare scusa per il ritardo scusa per se ti ho fatto tenere troppo no no figurati dimmi se volevi fare un'altra domanda no una volta era questa cioè se appunto tenete sempre una persona sola al telefono no una persona sola mai ah mai no ci mancherebbe guarda ripeto sulla la questione telefono al momento è è in valutazione nel senso che sicuramente lo riattiviamo sicuramente lo attiviamo lo riattiviamo in modalità di attivazione diversa quindi tramite pin e sicuramente stiamo prendendo un nuovo personale io ovviamente parlo sempre dell'Italia però vabbè diciamo che è un discorso che vale per tutti i mercati un nuovo personale che sia sia per la chat che per il telefono sono arrivate nuove persone sono in mentoring e quindi si amplierà ancora di più il team di supporto questo sicuramente quante persone poi saranno dedicanti al telefono al momento non posso dire anche perché poi dipende anche molto dalla volontà dell'operatore non è che diciamo tu telefono tu chat è molto molto dialogata la cosa nel senso diciamo ragazzi stiamo aprendo la servizio di telefono chi è che avrebbe voglia di provare chi è che avrebbe voglia di fare magari c'è chi fa un po' e un po' chi decide ma io provo poi settimana prossima massimo ritorno in chat cioè è molto molto aperta la situazione cioè non è non immaginarci come una batteria dove diamo gli ordini ma al contrario è molto a riunione diciamo chi è che vuole provare a fare assistenza telefonica a dialogare con i clienti quindi questo è faccio un'ultima domanda riguardo l'assistenza telefonica e poi voglio parlare solo un secondo con te riguardo tutta la parte dell'investimento appunto aziendale delle cose non riguardo sai che ma in generale proprio dell'assistenza come idea prima però appunto dicevo voglio farti questa domanda qua dell'assistenza cioè è una domanda forse stupida per te ma quando diciamo rinascerà l'assistenza Saigam per telefono visto che appunto recentemente avete creato appunto avete messo una nuova voce dobbiamo aspettarci agglomerati stili operatori telefonici che senti un momento una voce una voce vecchia un momento una voce nuova oppure avete pensato già di ricreare di fare di riregistrare tutto l'iguo tutto il menu tutti i messaggi dalla nuova voce allora io al momento ho fatto richiesta di registrazione di diversi messaggi alla stessa persona e quando ci sarà la riattivazione quindi abbiamo già preparato in realtà con la stessa con la stessa voce ovviamente i messaggi necessari se poi in futuro con l'attivazione del messaggio piuttosto che la richiesta del pin eccetera servirà a registrare i nuovi messaggi è in dubbio che lo faremo con la stessa voce ma i messaggi vecchi che avete già registrato con la vecchia voce li state riregistrando quindi con la nuova voce oppure no? i messaggi vecchi adesso probabilmente cambieremo tutto per quello che ti dico ci stiamo prendendo del tempo bisogna vedere può essere che nella volontà di attivare il servizio velocemente magari all'inizio ci possano essere delle non coincidenze di voce agglomerate chiamali come vuoi però ovviamente cerchiamo di mantenere il tutto pulito possibile con una voce bella che suoni bene sì perché appunto il vostro anche secondo me una bella cioè a me piace molto appunto il quando un'azienda ha un ha un operatore cioè una voce telefonica perché cioè scusa ha un servizio cliente telefonico perché da lì puoi anche riconoscere e capire un seconda voce il volto quasi dell'azienda ho visto che recentemente avete lanciato anche il video del del wordpress starter quindi del vostro plugin l'hai rilasciato probabilmente anche tu quindi molto molto bello l'ho apprezzato e ora voglio parlare un secondo con te prima di lasciarci veramente ti ho fatto parlare ti ho già stressato troppo oggi spero che spero che non mi stai ancora odiando no più che altro che ho delle riunioni da fare sì no no riconosco riconosco ti lascio però prima volevo chiederti appunto volevo discutere un secondo di te su appunto l'assistenza come realtà proprio come ideologia perché io per esempio adesso non so se conosci Spusu è un operatore telefonico adesso recentemente austriaco ha lanciato in Italia ok è interessante perché loro a differenza di altri operatori puntano tutto sull'assistenza cioè se prende sono loro siete voi praticamente voi fatti operatori è bello perché hanno assunto in house 15 persone che si occupano solo dell'assistenza e forniscono supporto aspetta che non voglio mostrare dati sensibili ma forniscono supporto per telefono faccio una bella pubblicità per telefono chat invece dall'altra parte per telefono per telefono chat e whatsapp per telefono whatsapp e ticket quindi via email ed è interessante perché da quei noti anche come ideologia il investire tanto sull'assistenza e l'avere persone proprio in house invece poi ci sono tante altre aziende che appunto gestiscono tutto facendo gestire tutto da altre aziende quindi per esempio da diciamo la teleperformance ma ce ne sono tante altre io volevo chiederti tu come metti in caso che domani direi a prima un'azienda tua ok eh B2C quindi verso il cliente finale tu investiresti di più eh sul lanciare un supporto appoggiandoti a un'azienda esterna o a un team interno e eh nella risposta a questa domanda puoi dirci anche il perché perché secondo me è molto interessante anche per esempio altri operatori telefonici tutti esterni quindi voglio chiederti questo allora ci sono tanti elementi da considerare cioè la risposta è veramente complessa questa domanda il primo elemento da considerare è la complessità del servizio che tu offri eh allora siamo chiari l'affidarti a una a un servizio di assistenza terzo quindi di esterno è meno costoso eh è meno costoso in termini di di investimento è meno costoso in termini di tempo e di formazione perché non hai il problema di dover avere persone contestantemente da formare internamente assumere incaricare a te perché tu fai un contratto di servizio quindi io sono un'azienda faccio un contratto di servizio con un'altra azienda che offre assistenza e non è un problema altrimenti dovrei assumere personale e diventa un problema soprattutto in Italia quindi consiglio spassionato devo essere sincero l'assistenza è sempre fondamentale bisogna investire sull'assistenza ma nel momento in cui tu hai un servizio che non è particolarmente complesso che non ha non è come sideground dove hai una gestione dei servizi particolare sulla quale devi essere formata che è altamente tecnico e bla 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 forse è meglio soprattutto agli inizi anzi sicuramente è meglio investire più su un'assistenza terza su qualcuno che tu non devi assumere a meno che non ti basta una persona allora puoi anche assumere una persona o farlo te direttamente se invece il servizio è particolarmente complesso è sviluppato in house ha delle particolari tariche delle competenze importanti allora ha senso investire sul capitale umano e prendere personale che siano una due o tre persone cioè in realtà qua potremmo stare a parlarne per ore in generale in generale è proprio una questione di semplificazione da una parte complessità dall'altra complessità giustificata nell'assunzione delle persone nel momento in cui tu hai un servizio tuo particolare e vuoi avere persone formate che siano specializzate in quello ha dei costi in termini non solo di stipendio per il tuo per il tuo dipendente ma anche per il fatto che ovviamente poi ci sono dei costi relativi al costo dipendente come azienda una cosa secondo me molto interessante di questo punto è che in realtà tantissime persone anche per esempio con l'agio di Spur moltissime sono una società in realtà austriaca ma in realtà in moltissime hanno detto eh sì hanno investito sull'assistenza ma l'assistenza cosa serve se tutto va bene è una domanda effettivamente curiosa tu hai una risposta perché io sicuramente allora loco vado a dire ma secondo te ti rigiro proprio questa domanda secondo te perché serve investire sull'assistenza se poi come alcuni dicono tutto va bene allora alcuni possono dire no sulla qualità e non sull'assistenza perché tanto sappiamo che l'assistenza poi andrà bene no? no allora non esiste un servizio che dove tutto va bene cioè non esiste il tutto va bene tutto va bene siamo felici contenti se è un servizio fra virgolette nuovo con pochi clienti da gestire diciamo magari anche semplice e quindi fra virgolette tutto va bene nel senso che tutto è gestibile anche se qualcosa va male è velocemente gestibile ma non esiste un servizio che tutto va bene è sempre importante avere un punto di riferimento di assistenza qualora qualsiasi cosa anche la cosa più banale stupida non vada bene o si abbia anche solo un dubbio o una domanda quindi il valore dell'assistenza è fondamentale tu comunque stai offrendo al mercato e alle persone un prodotto o un servizio che sia devi essere disponibile H24 più o meno se non riesci a H24 almeno 8 ore al giorno 10 ore al giorno a dare i tuoi dei tuoi dei tuoi consigli le tue soluzioni su quel servizio che tu stai offrendo non puoi lanciare un qualcosa e lasciarlo in balia del mercato senza dare spiegazioni se tutto va bene non esiste è che molte aziende proprio invece puntano molto di più sul prodotto no ma chiaro ma non è che una cosa esclude l'altra no no però l'idea è tu magari hai tot euro da spendere tu puoi investire magari su una cosa perché tu mi dici magari sei un'azienda piccolina la dici cosa appunto sull'assistenza sul prodotto o su cosa cioè ah ok allora avevo non avevo compreso la domanda allora personale ma è personale la mia idea prodotto se sei all'inizio nella fase di sviluppo assolutamente perché l'assistenza soprattutto se sei un'azienda piccola la puoi fare anche te perché il prodotto è tuo e puoi gestirla fraticosamente ma la puoi gestire attendere ovviamente l'investimento sull'assistenza perché è necessario però quando un prodotto è nuovo non serve a niente avere assistenza su un prodotto che non funziona perché cioè serve ma è ridicolo no tu prendi assistenza perché il prodotto non è performante dovrebbe essere al contrario dovrebbe essere che il prodotto va bene e l'assistenza che ti serve è poca però a quel punto torna al discorso allora non investi sull'assistenza investi sul prodotto ma non è che tu allora il tutto va bene non esiste capito il tutto non va bene non esiste perché sicuramente i problemi ci sono tu investi sul prodotto e tu devi cercare di avere un prodotto più possibile e performante è ovvio che devi avere anche un canale di gestione di assistenza e di supporto perché i problemi ci sono sempre qualsiasi cosa anche se sei il più bravo del mondo i problemi per qualsiasi motivo escono magari non è colpa tua magari è l'utente che non capisce come utilizzare una cosa non è un problema del tuo servizio ma in quel momento l'utente non riesce a fare una roba e quindi devi dargli assistenza oppure anche questo ti può aiutare molto nel tracking di quello che ti viene chiesto se un utente o due seppure il servizio funziona un utente o due non capiscono come farlo pur funzionando il servizio non è che forse il servizio funziona ma tu l'hai pensato in termini di layout in modo sbagliato perché non intuitivo cioè l'uno aiuta l'altro sempre noi sai quanto dall'assistenza ricaviamo in termini di sviluppo strategico perché arrivano i lamenteli sull'utilizzo un esempio banalissimo SciTools lanciato mesi fa bellissimo i lamenteli sul fatto che non c'era il bottone wp-admin non c'era il bottone wp-admin perché noi non avevamo pensato come tu tante persone come anche te che utilizzi wordpress io sono abituato a parte che ce l'ho salvato ma sono abituato a scrivere l'url con wp-admin no e vado e invece le persone probabilmente non sono abituate non ci pensano neanche e quindi si lamentavano perché non avevano il bottone wp-admin e l'abbiamo inserito e invece una roba ad esempio su facebook su twitter che voi fornite supporto anche lì perché ad esempio come per esempio fa anche vodafone non fate mettere per esempio la firma alle persone che rispondono diciamo vostri perché voi quando non mettete per esempio quando non rispondete ai commenti su facebook non mettete alla fine il nome della persona che risponde perché secondo me sarebbe molto più interessante e carino sapere con chi stai parlando ma guarda non c'è non c'è una ragione nel senso che l'account business social che sia facebook twitter youtube o qualsiasi è un account business con accessi editor di diverse persone dell'assistenza e quindi tante volte alla stessa per problemi di esigenza proprio alla stessa allo stesso thread magari prima risponde uno poi risponde l'altro e quindi senza far vedere luca paolo maria facciamo vedere il grano d'italia ed è un flow unico non abbiamo mai fatto dei ragionamenti su di questo non ci è mai sembrato particolarmente interessante se devo essere sincero io secondo me ormai a tutti i miei messaggi su twitter secondo me rispondi sempre tu secondo me quando vedo il mio nome la gente ti passa le cose twitter principalmente quando scrivi te me lo passano certo perché noi mai pensaci tu perché io non voglio no no twitter in italia ho usato pochissimo pochissima gente ci scrive noi usiamo tantissimo facebook facebook è abbiamo facebook è un canale di assistenza sostanzialmente anche se non dovrebbe esserlo quindi non usate facebook come canale di assistenza ma io alcune volte l'ho usato per alcune per alcune aziende è scomodissimo cioè infatti io infatti allora io quello che amo i servizi che amo di supporto sono i canali di supporto che amo sono il telefono e proprio veramente la chat perché il telefono è molto più personale cioè è bello quando senti una persona che ti risponde dall'altra parte e col quale magari alcune volte mi capirà anche di fare conversazione io io ho il telefono con no per chiedere un'informazione ci ho detto allora state lavorando in co-work in da casa perché sentivo che stava perché lui pariente stava cercando un'informazione per me e dico ma state lavorando da casa allora e era bello perché si creano quel momento di conversazione che non può succedere in chat capito? si si no capisco certo che ovviamente poi quello là mentre stai parlando del tempo magari potete aiutare l'altra persona che magari si sta aspettando il telefono però purtroppo quelle sono la sfortuna dell'assistenza diciamo così ti lascio in realtà facendovi complimenti per il servizio e dicendoti che speriamo che spero di vederti a work in Italia perché lo stiamo proprio realizzando io sono adesso parte del ho visto si si ho seguito ho seguito ho seguito un po' i discorsi sul canale Slack sei là? si non intervengo mai non intervengo mai perché alla fine non ha non ha senso che intervengo ma do sempre un occhio ma perché non hai mai cioè tu sei sempre stata una persona comunque esterna tra i gatti della community ma per esempio José lui partecipa di molto cioè lui è organizer fa tantissima roba tu stai pensando magari di fare il tuo debutto tra le regolette nella comunità italiana oppure dici no non è mio lascio perdere basta grazie no esatto cioè allora sei cose che allora io non ho particolari competenze tecniche da un certo punto di vista dall'altro noi semplicemente abbiamo abbiamo in Spagna abbiamo avuto José che era già dentro e poi è fatto parte di SiteGround è stato l'opposto come anche Francesca che era parte della WordPress community e poi è entrata in SiteGround per me è differente io sono sempre stata una persona che lavora sul marketing la comunicazione la strategia e ha un po' poco senso entrare in un qualcosa seppur partecipo ovviamente a tutti gli eventi ha un po' poco senso come figura mia entrare a contribuire alla community perché non riuscirei neanche a dare un contributo di valore in quel senso io sinceramente ti vedrei molto bene nel team marketing o nel team social di qualche evento WordPress sinceramente se lo dite la verità potresti fare molto io spero qualche volta di vederti tra gli organizer il coso ti lascio veramente ultima domanda poi termino perché so che stiamo andando lunghissimo e non voglio starti a stressare a quel genere ti metto in grande perché adesso è una domanda che mi sto facendo adesso la devo fare a Luca perché ci tengo veramente è una domanda bomba allora voi come seconda avete sempre si siete sempre entrati con l'impronta premium quindi siete un'azienda premium siete qua ma secondo te ti chiedo è più semplice lanciare un'azienda o un servizio a prezzi non dico alti però come servizio premium o come servizio a basso prezzo prego allora anche qua è una domanda che in realtà richiede una complessità di risposta particolare parlo per mia personale idea ma non è detto che questo sia un mantra per il lancio di un servizio di un prodotto se tu sei una persona non conosciuta nell'ambito nel settore è meglio andare sul mass market perché il vendere prodotti che hanno un costo meno incisivo un prodotto o servizio meno incisivo sull'utente finale ti permette di entrare più facilmente in contatto con i primi clienti avere feedback avere commenti e consigli di questi clienti ad altre persone se vuoi entrare da sconosciuto in un mercato di alto livello è difficile avere il famoso primo cliente che paga fiori di soldi per un servizio che non è conosciuto magari è buonissimo come servizio però non è conosciuto non ha raffronti quindi quindi si potrebbe io se fossi all'inizio e non fossi conosciuto partirei con un ottimo servizio ovviamente che è la base di tutto sviluppando un ottimo servizio che attendere magari diventerà premium sicuramente può diventare premium ma che all'inizio ha dei posti per esempio bassi in modo che tante persone più persone lo possano provare e poi da lì quando faccio rendere conto alle persone che effettivamente il prodotto ha valore ed efficacia allora diventare un premium che potrebbe essere banalmente una strategia di marketing dove dico io sto facendo ti dico io sto facendo un prodotto o un servizio che è di valore premium ma siccome lo sto lanciando adesso lo lancio per sempre per i primi cento clienti per il primo anno ad un prezzo basso regalato non lo so ti inventi qualcosa in bundle con qualcos'altro in modo che tu riesca ad avere una prima una prima cerchia di clienti che sono importanti non solo per i prodotti dei servizi ma anche per i feedback che ti possono dare per i commenti che possono dare a livello social e quant'altro così è come la vedo io ho visto che avete alzato anche un po' i prezzini di SiteGround recentemente quindi sempre per appunto sempre per come dice sempre voi penso che sia corretto anche per giusto correggimi se sbaglio allineare la qualità del servizio che ho affritto e poi col prezzo giusto? sì assolutamente abbiamo abbiamo fatto esattamente questo ragionamento nel senso che abbiamo continuiamo a sviluppare come sai nuovi servizi nuovi sistemi col SiteLoss abbiamo introdotto un sacco di cose nuove e stiamo sviluppando tutte cose nuove stiamo facendo delle partnership stiamo offrendo servizi extra non nostri a prezzi più bassi faccio un esempio di UBENDA piuttosto che SEO tester online sulla quale se tu puoi prendere se sei cliente SiteGround puoi prendere quei servizi a un costo veramente basso però tutte queste cose qua per noi ha un costo noi ma un costo scusami se chiedo un costo nella partnership cioè voi pagate a UBENDA pagate a SEO tester online o un costo nel senso un costo di te che devi andare a cercare fare allora dipende dalla partnership ci sono partnership in cui paghiamo partnership in cui non paghiamo partnership in cui veniamo pagati dipende tutto dal tipo di partnership che li stabiliamo dal tipo di azienda dall'exposure che possiamo avere è complesso però ovviamente il costo è proprio del personale che ci sta dietro perché io sono la persona che parla con le aziende contatta fa i meeting decide quali promozioni fare quali partnership fare faccio l'esempio da partnership ma è l'esempio più piccolo perché poi in realtà ci sono altre mille cose una volta che io però ho detto facciamo sta roba qua non è che si fa ci sono persone dietro che lavorano sviluppano integrano cioè c'è dietro un processo questo per n.mila cose lo sviluppo di SG Optimizer che viene adesso rilasceranno una nuova versione banalmente lo sviluppo in multilingua anche adesso che faremo che stiamo lavorando per free servizi anche in Germania cioè c'è tutto dietro il mondo l'ampliamento del servizio di assistenza è tutta una macchina che lavora continuamente che ha un costo ovviamente noi lo sappiamo lo comunichiamo ai nostri clienti diciamo per cercare di avere un servizio che è sempre più performante sappiate che è così ti lascio chiedendoti solo se quando ero ancora in periodo diciamo di emergenziale il telefono faceva parte appunto della pratica diciamo un po' più della chiusura poi per esempio del telefono cioè della chat sai che c'è un numero limitato ma per il telefono invece se uno per esempio non avrà la chat aperta potrà telefonarvi oppure io dico all'estero anche uno potrà telefonare e basta e le tue conteggiate poi come numero di chat no no su chat stiamo parlando ok ho capito va bene grazie Luca ti ho già stressato quasi due ore mamma mia non ci credo quanta pazienza hai con me e noi vediamo a spero WorldCap Italia spero adesso stiamo anche per gli stand spero di vedere anche tanta bella altra gente là di Saigon perché ultimamente ho visto che appunto per così tante richieste che ricevete non state più mandando agli eventi e ne sto facendo molto pochi in realtà di eventi perché non è che ce ne siamo di eventi online sì è vero è vero confermo adesso ne abbiamo fatti pochi in questi mesi io personalmente non sono un grande fan degli eventi online devo essere sincero quindi è anche colpa mia però di vederti sinceramente voglio vedere infatti adesso lo vedo adesso lo vedo niente ti lascio caro ho già parlato troppo volevo solo ringraziarti per essere stato qua spero che sia stato bello per te stare qui con me adesso al solito tu ormai partecipi a tutti i miei progetti a CIS Meetup Day e cose quindi è andato benissimo tra l'altro Meetup Day hai visto l'ultimo giorno esatto esatto incredibile grazie a te grazie a te Matteo figurati quando vuoi è stato è stato un piacere allora vi auguro a tutti anche a chi ci sta seguendo diciamo in differita perché questa non va in diretta però a chi ci segue in differita un caro saluto e speriamo anzi sicuramente la prossima volta che faremo quest'altra puntata qua avremo altre persone grandissime come sempre come il nostro caro Luca per cosa a presto vi salutiamo ciao a tutti ciao ciao